Mancanza di servizi igienici e di un lavandino che possa consentire di lavare e sanificare le mani, nessuno spazio idoneo per la vestizione e la svestizione degli operatori, misure di sicurezza e contenimento del rischio di diffusione del virus covid inadeguati. Si tratta delle criticità rilevate ed evidenziate dalla CISL-FP in riferimento al punto prelievi covid presente in uno spazio del parcheggio dell'ospedale veneziale di Isernia, organizzato con uno container ed una tenda della protezione civile. Per il sindacato una situazione non accettabile che non rispecchia le indicazioni poste in essere dal Ministero in materia di salute e sicurezza, l'ultimo caso in ordine di tempo di totale incapacità dell'azienda sanitaria di dare un'organizzazione degna di questo nome a un servizio essenziale per la cittadinanza. I professionisti sono totalmente abbandonati a loro stessi e non è concepibile a circa due anni dalla pandemia operare ancora in queste condizioni. Tutto questo è assolutamente inaccettabile e ancora più grave, continua la CISL, è il muro di gomma contro cui finiscono tutte le nostre denunce con un'azienda più impegnata a voltarsi dall'altra parte che a risolvere i problemi, sollecitata una immediata soluzione idonea a sanare tale criticità.